A proposito di come dicono in Svezia, qui c'è Oderliebe, l'amico Oderliebe che scrive un grande saluto al grande Massimo Mazzucca, autentica bandiera della ricerca della verità. Io rimango basito quando nel parlare con amici e conoscenti dell'assurdità della versione ufficiale dell'11 di settembre, molti proprio non vogliono vedere oltre il proprio naso. Sto parlando di persone intelligenti, con strumenti ermeneutici comprovati, mi lascia ogni volta esterrefatto, caro Oderliebe, è un po' mazzucco l'ha superata questa fase, no? Tutti devono attraversarla, c'è chi si ferma e torna indietro. In famiglia mi dicono ma non gli rispondi più, dico vabbè, no, io ho le sue idee, perché devo rispondere a chi? No, è la verità che è un meccanismo psicologico, quando uno decide che vuole capire qualcosa dell'11 di settembre, ci mette dai 4 agli 8 secondi a vedere che è una bugia colossale. Uno non deve essere un complottista marcio dentro il filo all'intestino per capire che se un aereo cade per terra tutto intero, come ti raccontano, buttato giù dai passeggeri, però trovi dei pezzi di fusoliera che stanno a 14 chilometri di distanza, è chiaro che non può essere rimbalzato quel pezzo di fusoliera e quindi è ovvio che non è caduto tutto intero ma che è stato battuto in volo. Quando trovi dalla palla di fuoco di 2000 gradi del secondo impatto, sopravvive una pagina di un passaporto con la fotografia e il nome del terrorista arabo che viene ritrovata da un agente delle FBI a 4 risolati di distanza, non c'è bisogno di essere terroristi per porsi delle domande, scusa di essere complottisti per porsi delle domande. Lapsus Freudiano! Eh, appunto, stavo pensando la stessa cosa, dico adesso cosa vuole dire questa cosa qua? Un saluto anche ad Alessia, come no, la signora Videllone, Alessia Collettini, un saluto da parte di Alessia a lei, dottor Mazzucca, a tutti noi, erano generali i saluti. Qual è la più grossa bugia che ci hanno raccontato oltre l'11 di settembre, ti chiede Natascia? Secondo me la più grossa bugia in assoluto è la democrazia, cioè questa illusione che sono riusciti a venderci, che noi siamo liberi di decidere del nostro futuro perché andiamo a mettere una crocetta ad un certo punto. Il grande pensatore disse se votare fosse stato davvero utile ce l'avrebbero mai lasciato fare, secondo me? Bellissimo, bellissimo amico mio. Sì, 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 leggo testualmente, sì, 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 Marco, parliamo dello sbarco, del falso sbarco sulla luna con il grande Mazzucco. Guarda, sono ormai quattro anni che rimando quel film perché ce n'è sempre uno più urgente da fare. Prima, quando sto per farlo, è arrivata la storia di Simoncini del cancro, quindi era chiaramente più urgente quello. Poi a un certo punto veniva fuori la questione della marijuana e della cannabis, ho pensato che fosse più urgente fare quello, anche perché nel frattempo si è scoperto che la marijuana cura il cancro. Anzi, scusa, lo si sapeva già, è stato capito scientificamente il perché, quindi mi sembrava importante mettere in giro quel tipo di informazione. Poi questo l'11 settembre va fatto perché non se ne può più e adesso, fra l'altro, vorrei fare subito dopo quello della luna, ma l'anno prossimo, se non sbaglio, è il cinquantenario dell'omicidio Kennedy. Sì. E quindi mi toccherà fare prima quello per essere pronto novembre dell'anno prossimo. Allora, secondo voi davvero l'uomo è andato sulla luna? Lo scrivo anche sull'account. Secondo voi davvero l'uomo è andato sulla luna? Grazie Michela perché ce lo chiede Gio. Non credo sia la nostra amica Gio Di Sarno, è molto probabilmente la contrazione di Giovanni. Gio ci chiede questo, dice, ma secondo voi davvero l'uomo è andato sulla luna? Lo mettiamo sull'account redazionale 342, proprio al volo, al volo, al volo, al volo. Chi poi lo fa su Facebook e chi non lo può lo fa magari sul servizio di messaggeria 342 4151406. Secondo voi l'uomo è andato davvero sulla luna? Sì, c'è andato, no, non c'è andato. Se posso, se mi prometti di non farmi domande ti do la mia risposta. La mia risposta è secondo me sì, ma non con le missioni Apollo. Ah, quindi mi stai, quindi mercoledì prossimo, perché c'è Mariotti che è in ascolto, il nostro esperto ufologo, quindi hai fatto una parola. Non ho detto niente, ho detto solo quello. Però mercoledì prossimo, adesso hai scatenato la curiosità, però. E vedete voi. Quindi ci sono andati, ma non nella versione Armstrong, Pitch e Broglie. Quella è la facciata, è il cinema dei poveri. Il cinema dei poveri, allora. Il telone davanti, attaccato al muro a Napoli una volta facciamo. Allora, ho visto una puntata di Eva dove smontavano la tesi delle false foto fatte sulla Luna Era Penuso. Non so cosa dire. Io ho fatto il fotografo professionista per 30 anni, posso garantirvi, l'unica cosa di cui può essere assolutamente certo, è che quelle foto siano state fatte sulla Terra. Attivissimo, attivissimo era penoso, chiedo scusa, il messaggio lo faceva attivissimo. Attivissimo fa quello che può, tra l'altro se ha un punto debole, devo dire che è proprio quello della fotografia, perché ogni tanto ne prende delle ciambellate che sarebbe meglio si dedicasse ad altro, però fa il suo mestiere, lui ci prova. Perdonami amico mio a quest'ora, fatemi salutare la signora Gina che l'adoro, però c'è anche mamma Aurelia, nonna Aurelia, chiedo, nonna Aurelia, la quale ha 76 anni e c'è pure nonno Ernesto, papà Ernesto, nonna è più convinta, mentre nonno Ernesto dice che io dico un sacco di cazzate, ci fa come mai essere quello, dice un sacco di cazzate, gli interviene gente, tra cui stasera ha recuperato anche definitivamente il grande Massimo Mazzucco che è il capo dei cazzari. Allora ci chiedono, e lo fa, credo, Silvana, la nipotina, che è grande, tra l'altro è stata promossa, ottimi voti, complimenti da parte di tutti noi, nonno ti chiede di dire a Mazzucco, quindi non è vero lo sbarco della Luna? Quello delle missioni Apollo? Certamente no, secondo me. Si parla di quello, se ci sbarco sulla Luna è quello, quello sicuramente no, a meno le foto sono tutte fatte sulla Terra, posso analizzarle una per una, far vedere una per una come siano state fatte sulla Terra e non sia luce solare. Il fatto poi tecnico che dentro una capsule, una specie di tappo di champagne, si sia potuto attraversare le fasce di Van Allen, che sono le stesse fasce che ci proteggono dalle radiazioni esterne, cosmiche, che ci sono fuori, che uccidono, quindi noi siamo vivi grazie alle fasce di Van Allen, peccato che questi sarebbero usciti e avrebbero vissuto tranquillamente dieci giorni, quanto è stato, una settimana, subendo le radiazioni cosmiche senza riportare il minimo danno. Quindi anche da un punto di vista tecnico, tecnologico, l'idea di potersi allontanare, uscire dalle fasce di Van Allen è qualcosa di impensabile, secondo me. qui scrive, lo so, incontenibili, come no, anche io, Anna Maria, grande. Secondo voi l'uomo è andato sulla Luna, Anna Maria, nostra amica ascoltatrice, risponde come no, anche io, per cui la belle e le donne poi sono molto più dirette. Allora, grande ammirazione per Massimo, ma un po' di tempo fa, vedi un servizio dove un signore spiecava punto per punto l'attentata alle torri. Bene, quel signore è costretto a cambiare abitazioni nei tuoi giorni. Tu hai mai ricevuto minacce da Montecavo Vetta? Il nostro Armando Cingrande, Armando, sei in un posto incantevole, Armando. Che Mazzucco non so se conosce Montecavo. No, a Roma? Montecavo è dove c'è una base anche nato, no? All'aeronautica italiana, ma si dice, si dice, non so se è vero, Armando magari un giorno ci potrà rispondere a questo storico, sembra più leggenda che altro, che ci siano questi livelli sotterrani dove ci sono laboratori segreti. Ma sicuramente sì, ma con Armstrong e company. Ah, ok, Andrea scrive, sicuramente sì, sono andati sulla Luna, ma non con Armstrong e company. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ok, ok. Hai mai ricevuto minacce, Mazzucco? No, per fortuna o purtroppo, devo dire nel senso che per fortuna, perché amo vivere tranquillo, purtroppo vuol dire che non sono abbastanza importante da meritarmele. Ma ormai credo che non sia neanche più quello il discorso. Hanno talmente tanti strumenti in mano per farlo. Infatti non si preoccupano minimamente del danno, di quello che possa fare uno come me o quelli come me. Forse, questo è il motivo per cui continuo a farlo lo stesso, è che queste persone non si rendono conto che loro si salvano le chiappe. Certamente Cenei non andrà mai in prigione perché un film di Mazzucco lo ha messo in crisi, questo è tranquillo. Ci si augura che però, diffondendo questo tipo di informazione, il prossimo Cenei che cerca di fare un colpo simile magari non ci riesce. Quindi grazie alla diffusione dell'informazione che poi la conoscenza e la diffidenza e la capacità critica di tutti cresce ed è per questo veramente credo che tutti noi lavoriamo in questa direzione. Non certo per ammandare in galera. Gerardo mio, vuoi perché sta finendo la trasmissione, vuoi perché io vado a casa, vuoi perché Mazzucco si va a vedere la partita, dice restate un'altra ora, non è proprio così semplice. Guarda, la bellezza di questo messaggio, Gerardo, mi devi credere, non è una battuta, lo trovo di una bellezza infinita, io infinita, però dobbiamo veramente staccare tra un po'. Allora, Massimo torna mercoledì prossimo un'ora intera. Gigi, qui, allora, luogocomune.net, digiti Google, luogocomune.net, arrivi, c'è proprio l'home page, ci sono i video, 49 euro, i 5 video, quindi puoi acquistarli tutti. Allora, qui ancora abbiamo Scadè e Mazzucco, è questo ragazzi, Mazzucco è l'ira di Dio. Allora, 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 Pierluigi Samuele, mitico Massimo, verità e professionalità, gli chiedo se è al corrente che sono previsti finanziamenti per chi vuole coltivare la cannabis, non è uno scherzo. Sono previsti da chi? È ora di piantarla però, Samuele è assolutamente esaustivo e attento. Diciamo che c'è... Molto puntuale, Samuele, qui. In vari Stati europei c'è una grande voglia, perché sanno tutti molto bene quali sarebbero i vantaggi economici, dobbiamo purtroppo riuscire a liberarci dal malefico accordo che tutte le nazioni hanno firmato nel 61, che fu imposto dagli americani a 150 nazioni nel mondo, dove la coltivazione della cannabis è proibita. Perché loro erano talmente preoccupati dei mali che ci può portare la droga che ci hanno fatto firmare un accordo dove non possiamo nemmeno coltivare la pianta, che ci darebbe ovviamente degli enormi vantaggi da un punto di vista industriale ed economico. Capisci come sono stati i previdenti, no? Massimiliano dice no, ma qui è una serie ormai... Qui Marcella no, Luca no, poi leggo Bruno no, ancora Daniele no, poi qui Guido no, ma non ci crede nessuno. Non ci guardate, non ci crede... Poi c'è una bella domanda qui che fa Maurizio, ma allora dov'è la frattura? Non lo so, dice come mai tanta gente non crede alle versioni ufficiali dei fatti eppure continuano a governare le stesse persone, è un po' il vecchio discorso. O forse sembriamo tanti, ma rispetto alla maggioranza non siamo ancora. Noi quel 50,1% in più. Però è una curva in crescita enorme. Sì, 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 enorme, enorme, enorme. Se chi ha vissuto internet negli ultimi dieci anni, come me lo sa, ci siamo partiti veramente da zero e siamo ancora lontani da una qualunque percentuale significativa, ma la curva è incredibile. È quel tipo di curva che non si ferma, perché si moltiplica, capisci? Ognuno contagia l'altro. Tra l'altro voglio dire una cosa, chi acquisti i mediodi ha il diritto e il dovere di copiarli, di distribuirli all'infinito, cioè rovinate la vita, la più gente che potete lo potete fare legalmente. Allora, qui, 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 aspetta, fermatevi un attimo. Era vero, pensa che Alberto, tassista, mi ricordo lo scherzo che facessi a Massimo il parente pugliese. Ah, fetento. Bello da morire, grande Alberto, grande, non gli scappa niente a loro, grandissimi. Che poi ci ho riprovato io a fare il Piemonte Seconde. Sì, ce l'ha fatta qua, subito, subito. No, che cosa, è la caruglia. Vuoi dare il risultato parziale del primo quarto d'ora? No, no, non lo farei mai. Uccido, eh, uccido. È finito un mito, mazzù. No, non è vero, scherza, però non glielo diciamo, ci mancherebbe. Davvero, Arianna, Patrizia, basta, nel senso che grazie per la partecipazione, sempre tantissimi, Massimo è ovviamente una presenza piacevolissima e importantissima e della quale ne andiamo orgogliosi. Mercoledì prossimo, ve lo prometto, dalle 20 alle 21 Massimo sarà con noi perché parleremo ancora di luna. Sapevo, sì, sapevo che si scatenava questo, Massimiliano, tranquillo, anche in famiglia, perché ci stanno seguendo adesso a cena, durante la cena attraverso il canale televisivo e persone come Massimiliano che conosco, tra l'altro è uno storico ascoltatore del calcio, veramente mi frega niente, e sta mangiando con la cognata, col padre, e c'è chi dice che c'è ragione e chi dice che si può cazzare. Non lo so se il papà è Massimiliano, Ubaldo forse si chiama il signore, però immagina di gente di 70 anni che quel momento, quel luglio del 69, l'ha vissuto come una dala di cilio cero. Davide, la notte del 20 luglio del 69, io, uno, compivo gli anni, due, baciavo per la prima volta una ragazza nella mia vita. Quindi per me, vedere quei televisori accesi, io pensavo addirittura che lo sbarco sulla luna l'universo l'avesse dedicato a me, era per me che sbarcavano. Figurati, il mio compleanno, bacio la ragazza la prima volta, figurati il dolore quando ho dovuto affrontare le foto e vedere ma qui veramente c'è qualcosa che non torna. Grande Massimo. Mercoledì prossimo dalle 20 alle 21, Massimo Mazzucco con noi a Overture Altra Italia. Massimo, ti voglio bene, grazie di cuore, un abbraccio e buona partita. Un saluto a tutti. Ciao.